Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il grande fratello è appena iniziato e la caccia al primo flirt è già partita. Tra i concorrenti, i fan hanno notato una certa affinità tra l'ex velina Shailagatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno trascorso del tempo insieme in piscina e in sauna, ammettendo di sentirsi particolarmente vicini. Nonostante ci siano voci su un presunto coinvolgimento di Shaila al di fuori della casa, il legame che si sta creando potrebbe cambiare tutto. Anche Sonia Bruganelli si è espressa a favore di Shaila, dichiarando il suo supporto tramite una storia Instagram. In meno di 24 ore è scattata la prima ipotesi di flirt tra Shaila e Lorenzo, definita dai fan come ship. I due concorrenti hanno subito mostrato una forte chimica, con Lorenzo che ha elogiato Shaila per il suo carattere forte e avventuroso. Anche la ballerina ha confermato di sentire una connessione speciale con il modello. I fan sui social si sono divisi tra chi tifa per questa nuova coppia e chi è più scettico. Sonia Bruganelli si è unita ai sostenitori di Shaila, seguendo la prima puntata del grande fratello e condividendo la sua ammirazione per la concorrente. Anche la gaffe di Shaila durante il programma è stata accolta con simpatia dai fan, che l'hanno ribattezzata come la prima perla di Shaila Gatta. Nonostante qualche critica, sembra che la ballerina abbia già conquistato il cuore di molti spettatori. Con l'attesa per ulteriori sviluppi, i fan incrociano le dita per il possibile sviluppo del flirt tra Shaila e Lorenzo nella casa.